Questa deve essere la galleria vecchia Oddio Di qua c'è la soffizione E di qua dobbiamo andare di qua Il fuoco che arde Ecco Oddio Eccoci Eccoci arrivati Vieni vieni tesoro vieni Oh che bello sono contetta che mi hai accompagnato In questa vittima Hai portato la lampa Sì sì ce l'ho qua Allora dobbiamo metterci il kiwai Si sa che Nelle grotte c'è umidità Dobbiamo metterci il kiwai L'hai portato via Va bene Una torcia ce l'hai Ok Allora Vediamoci il kiwai Allora Sì perché Sicuramente dentro ci sarà umidità Il cappuccio ce l'ho dentro Se dopo piove Allora Allora Guardiano mamma mia Mamma mia C'ho paurissima Dai coraggio Entriamo Andiamo 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 Questa è l'entrata Guarda Che bello Fantastico Oddio non va più Oddio Mi si è scaricata No 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 Adesso va Pensavo che dove andava Allora Qua dice Praticamente Di andare verso In là Si Dice di andare di là Bello però Guarda Guarda le rocce Fa freschino Vero L'ho detto L'ho detto L'ho detto L'ho detto Che con il kiwai Almeno tiene anche Tiene anche Come si dice Tiene l'aria Allora Lo seguiamo Dice di andare di là Vabbè Sì che bello Ma allora Qua dice Che c'è una vecchia Galleria In pratica Che avevano costruito Anni fa Che quindi Non c'è da niente Con la grotta È una galleria Vero e propria Che si insinua Nella grotta Quindi Niente Bisogna andare a vedere Dai Andiamo Andiamo Sì verso di là Vai Andiamo in là Mamma mia Ma quanto è buio qua È buio pesco No te prego Oddio Non mi fa più Non fa più la doccia Oddio Ascolta Dammi il cellulare Dammi il cellulare Subito Vedo il tuo Dappi il mio cellulare Dammi il cellulare Dammi il cellulare Ok Ok Lei è abbastanza batteriale Ok Non fate con questa Ma Facciamo il piccolo Cielo Ma non si vede niente Che cosa Ma tu vuoi dire che io mi devi infilare in quel buco lì Già dobbiamo passare in quel buco lì Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito che E va bene E va bene E va bene Allora E allora Mamma Io ti ci guardo bene Guarda Ti ci guardo bene Anzi ho detto Guarda Ho voluto venire in questa avventura però io sento già che sto già contento io perché la situazione è qua non mi piace ho sentito l'acqua che scorre sì arrivate là arrivate là ma io mi devi rifinare in questo luogo in questo luogo mi devi rifinare ma sei fuori vai insomma mi guardi là tieni leggi io non so non so cosa dire mi sono più io di là in questo luogo e allora metto bene va bene farò questo sforzo farò questo sforzo mamma quanto è stretto ma è una galleria doppia questa 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 deve essere la galleria vecchia vedi com'è fatta non è una grotta questa è una galleria vecchia che si insomma oddio oddio sento dei rumori sento dei rumori sshh sento dei rumori vabbè saranno dei topi di giro bene dove dobbiamo andare adesso non esiste oddio non esiste e noi di qua c'è da questa porta da questa porta dobbiamo andare o da questa da questa porta io non so allora bisogna che ci mettiamo gli stivali aspetta che prendo gli stivali ce li hai poi ok allora metto gli stivali ok si non è non è di là metto qua che dobbiamo andare metto gli stivali ok allora sono che c'è acqua andiamo si andiamo c'è acqua c'è acqua si si ma è no è è questa è questa qua è la via d'andare no perché questa è la vecchia galleria ma qua hanno fatto vedi che scommesso secondo me è questa è qua che dovevano andare si si fidati 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 dai no no di qua di là di là di là dai dai vieni 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 dai vieni vieni c'è un passaggio di qua di qua di qua guarda che c'è una luce di là c'è una luce che dice guarda sicuramente ci siamo qua si si quindi qua c'è il corridoio la galleria il corridoio che è quello se chiamo qua quindi dobbiamo andare di là di là dobbiamo andare dai vieni qua vieni dai vieni vieni qua guarda che bello qua qua ci face il sole c'è qualche uscita c'è qualche volta c'è c'è un po' spirale di luce bellissimo guarda è molto bello qua si qua è una vecchia caverna non so che bevo perché c'ho una sete da matti c'ho tanta tante sete non hai sentito io un po' che dobbiamo fare forza non ti piaceva abbiamo tante strade da fare ehi si siamo appena a mezzare non dai un po' più della metà un po' più della metà si si ci siamo quasi oddio un topo un topo un topo un topo un paura che dei topo va bene un paura che dei guadzi pieno di novi topo un seco ho paura di tutto mamma mia che paura oddio 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 va oddio wow ma quanto è bello qua guarda che bello no fantastico lo legna meraviglia guarda quindi dobbiamo andare su su l'alba dobbiamo andare l'alba si siamo quasi arrivati abbiamo dato due passaggi mi so l'acqua si sente ancora di più perché poi siamo dalle zone secche alle zone nuvide come niente possibile si ti entri gli stivali che dobbiamo traversare un altro bel fiume allora la mappa dice che c'è una specie di coscio d'acqua da trasversare che non è che non è forno e andare dall'altra parte perché c'è un'altra si c'è una parte che si divide come nella galleria c'è un'altra parte ancora che si divide esatto c'è un'altra parte dove si dirama esatto dobbiamo andare di là in fondo di là io sento l'acqua la senti tu? però guarda quanti anni avranno queste cose ne avranno tantissimi anni sicuramente oh quanti anni avranno secondo te l'unica parte bezza nuova sicuramente quella calderia l'anno dalle quale si sono fatte da fare molto bello e 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 oh mio Dio oh mio Dio ma che cacchio è ma 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 ci sono delle scale qua no io ho paurissima ho paurissima ma qua ci sta qualcosa ma qua ci ha qualcuno qua ha costruito questi scalini qua ci è stato ci è stato qualcuno qua prima di voi guardati rendi conto guarda oh incredibile ma cos'è quella luce azzurra no eh oddio 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 ti devo dare una volta la notazia dobbiamo salire le scale è come come la mappa dice così che dobbiamo salire le scale non abbiamo ancora i crociatori con quel fiore secondo me è da su c'è quella sorgete luminosa l'acqua che è inoperata dal sole capito com'è dall'alto vi manca meno la voce dai builds andare su ehhh non ti USE vieni scappando dai cosa devo dirti scappiamo dont' duone andiamo su dai andiamo su andiamo su e adesso non vorrai mica tornare indietro adesso è dove tutta quella strada che abbiamo fatto dai 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 su muoviti eccoci eccoci wow guarda che bello questo è il corso d'acqua che ti dicevo è illuminata da sorgenti dalla luce del sole guarda che bello che spettacolo che stupendo e di qua c'è la mappa di qua di qua di qua c'è la sorgente e di qua dobbiamo andare di qua e infatti c'è qualcosa che sfarpa si e poi esce allora esce secondo me ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo secondo me che ha il te per eternità secondo me ci siamo ci siamo siamo arrivati alla fine si dobbiamo andare dobbiamo andare di qua no 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 shh 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 andiamo di qua non ti preoccupare non mi partiamo sempre dai, non ci devo per il senso che ci ha dato stai, ma che però non abbiamo ancora trovato un guardiano non lo so dai, pira adesso, ci ha dato dai, addio oddio, è l'oro oddio, attenzione il fuoco che arde dai, guardiano oddio oddio, oh mio dio il fuoco che arde, è bellissimo ma dove se va il calce il calce non lo so non lo so dove sia adesso lo cerchiamo santo grazie wow c'è l'uomo dai, cittata dai, cittata zitta guarda che bello questo fuoco fantastico e qua questa questa conoscenza deve essere la sorgente ancora questo stai zittando dì 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 facciamo pia palla pia palla 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 Non c'è altra via qua, non c'è altra uscita Non c'è altra uscita Non c'è altra uscita Non c'è altra uscita